A tre settimane dalla fine del campionato, ad una dalla finale di Coppa, il dossier Messina Calcio potrebbe vivere un'improvvisa accelerazione da qui a breve. Temporeggiare ulteriormente significherebbe pregiudicare a priori una stagione che al di là dei protagonisti non può non restituire ambizione e decoro sportivo alla piazza. Viceversa meglio chiudere. Paolo Sciotto, per motivi di lavoro a Verona per tre giorni, nelle ultime 48 ore è tornato a parlare di cifre e quindi a negoziare una possibile cessione con Rocco Arena. L'imprenditore milanese di origini messinesi liquidato con un seccono non più tardi di 15 giorni fa. Legittimo, se vogliamo prevedibile, ma ora il tempo delle riflessioni, delle trattative infinite, delle proposte, dei rilanci è terminato. Occorre chiudere definitivamente la partita in un modo o nell'altro e a quanto pare la fumata bianca sarebbe meno lontana. Una fuga in avanti a sorpresa ma probabilmente anche logica. Il sindaco Cateno De Luca già da lunedì chiederà conto e ragione. La meritoria messa a disposizione da parte del Camaro dello storico marchio ACR, Associazioni Calcio Riunite Messina, l'unico registrato, oggi di fatto, nelle mani di De Luca, ha probabilmente sparigliato le carte non solo per ragioni di ordine sentimentale ma anche sotto il profilo giuridico. Chi ne è proprietario ha titoli infatti per diffidare dall'uso chiunque indebitamente, cioè senza l'ok del detentore, utilizzi l'acronima ACR. Se a ciò aggiungiamo l'imminente scadenza della concessione in uso dello stadio, che non sarà più nella disponibilità del club di Sciotto dal 31 di maggio, è facile comprendere come per la famiglia di imprenditori operante nel settore dell'automotive, questa sia l'ultima opportunità per non rimanere con un pugno di mosche in mano.